Che cavolavoro ha fatto oggi Tui? Penso che si sia superata. Sono tipo degli involtini primavera. Ma vediamo come li fa. Me ne puoi fare uno Tui? Fa vedere. Quindi apre la foglia di verdura diciamo di lattuga, poi noodles, la mini pannocchia, la carota, cipolla e verdure thailandesi. E' bello anche da vedere. Questo si che è il prezzemolo. Poi l'ho chiuso. Così, 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 così. Lo taglia. E questo è il risultato finale. Ma che figata. Noi siamo un po' in controluce, vabbè. E poi? Finito. Lo mette a bollire. Ah, fa tipo una zuppa. Poi mette l'acqua e li mette a bollire. Ok. Buon appetito. Grazie a Tui. Sì. Saluta. Ciao.